Oggi vi porto a Ravenna, da Amaranto, ristorante 100% vegan che non vedevo l'ora di provare. Il locale all'interno è molto carino, ma visto la giornata di sole ne ho approfittato per mangiare fuori. Cosa? Arancini di riso al pomodoro, mozzarella ovviamente vegetale, una croccantissima tempura di verdura, cappelletti a ragù ben aromatizzati e spessi come piace a me, e una squisita lasagna con verdure di stagione, accompagnando il tutto da un ottimo bicchiere di vino bianco. Come concludere in bellezza questo pranzo vegan da Amaranto? con un'enorme porzione di gelato al pistacchio salato con granella di nocciole e infine un ottimo caffè. Da Amaranto ho mangiato benissimo, le porzioni sono super abbondanti, l'atmosfera è molto piacevole, il personale è davvero attento e premuroso. Per me è un super sì.